Bruno sconfitta in Coppa Ceva, sconfitta a Milano e adesso arriva la partita più difficile dell'anno perché Perugia non è mai arrivata nemmeno al tie break, non ha mai perso un punto in questo campionato insomma, testa, complicatino Sì sì, sicuramente è una settimana che abbiamo fatto abbastanza dura forse abbiamo pagato anche un po' il viaggio lungo contro i tedeschi dopo una sconfitta che ci poteva anche stare perché anche loro hanno una buona squadra e dopo a Milano che secondo me non aveva molto la pazienza giusta per affrontarli sapevamo delle difficoltà perché loro hanno fatto bellissime partite già in questo campionato e purtroppo è una settimana brutta però possiamo sempre imparare da questa settimana abbiamo parlato molto di tutti i sacrifici che stiamo facendo e che ci vorrà da adesso in poi iniziamo da domenica che sappiamo il quanto duro è giocare con Perugia stiamo facendo la stagione perfetta fino adesso ma noi puntiamo sul nostro gioco, sulle nostre cose che possiamo migliorare e che magari in questo momento stiamo faticando un po' di più da fare senza pensare a chi avremo di fronte perché ormai è scontato per tutti che loro sono una squadra da battere e la cosa più importante è pensare alla nostra squadra in questo momento c'è una doppia lettura dopo la sconfitta di domenica da un lato tutto sommato passo falso attutito dalle sconfitte delle concorrenti e dall'altro, cavolo, peccato perché vincendo si poteva davvero blindare quasi il secondo posto quale prevale a tre giorni di distanza? io preferisco sempre pensare del lato positivo perché se ormai vuoi pensare sempre dal lato negativo le cose sono sempre un po' più brutte dopo che tutti quelli che erano dietro di noi hanno anche perso alla fine la classifica non si è mossa ma la cosa più importante è quello che dobbiamo migliorare quello che non abbiamo fatto bene questa domenica questa è la cosa importante che ieri siamo ritrovati insieme a Giangelo Staff e ci siamo parlati e è quello che noi dobbiamo pensare da adesso, da domenica in queste settimane che per noi è importantissima con Perugia, con Luneburgo e dopo Cisterna l'altra domenica grazie grazie